Gatti feriti, spaventati e altri che non si trovano neanche più, sono rimaste solo le macerie delle colonie feline situate nel parco del Fosso delle Campanelle a Roma. In occasione dei lavori di riqualificazione ambientale e di valorizzazione naturalistica a cura di città metropolitana, la ditta incaricata dei lavori ha demolito alcuni manufatti dove trovavano riparo le colonie feline. Dovevano iniziare i lavori qui alla Valle della Campanella e noi eravamo già in contatto con il Dipartimento Ambiente del Comune di Roma e eravamo certi, eravamo stati rassicurati che non sarebbero state toccate le colonie feline. Invece è arrivata qui la ditta di Roma città metropolitana, è incaricata e ha buttato giù anche i manufatti dove c'erano all'interno i gatti con le colonie feline registrate. Le colonie feline in Italia sono tutelate dalla normativa, a Roma c'è anche in vigore un regolamento comunale per la tutela degli animali che prevede nei casi di lavori di ristrutturazione tutta una serie di prescrizioni e preventivamente la messa in sicurezza dei gatti. È veramente sorprendente come a Roma possa accadere una cosa del genere, cioè che si passi sopra delle colonie feline regolarmente riconosciute, ma a parte anche se non fossero regolarmente riconosciute, sarebbe una cosa assurda. Con le altre associazioni abbiamo inviato una diffida a città metropolitana di Roma capitale e al municipio 14esimo affinché vengano immediatamente sospesi i lavori e si convochi urgentemente un tavolo, una riunione con i rappresentanti del comune, di città metropolitana, dell'ASL Roma 1 e delle associazioni tutte. Mi hanno distrutto, ho cercato di fermare la ruspa, non ci sono riuscito, in un quarto d'ora, 20 minuti hanno spacciato tutto, ne mancano 6 dei gatti, erano 13, ci hanno 7 adesso. Alcuni gatti non li trovo, magari sono solo spaventati e ricompariranno, ma ora sono passati un po' di giorni. Molti gatti sono veramente stressatissimi, per loro è stato un trauma grosso. Quello che noi chiediamo adesso è che Roma città metropolitana blocchi immediatamente i lavori, metta in sicurezza i gatti delle colonie feline che sono state buttate giù e che anche per le altre aree vengano predisposte delle aree dove poterli mettere in sicurezza.